Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi torniamo con la rubrica antologica dove approfondisco un'autrice che amo particolarmente o che mi sembra rilevante per motivi personali molto spesso ma non solo e oggi infatti parliamo di Octavia Butler. Octavia Estelle Butler è nata il 22 giugno 1947, suo padre un lustra scarpe è morto quando era molto giovane ed è stata allevata da sua madre, una domestica di Pasadena in California. Da figlia unica la Butler ha iniziato a divertirsi raccontando storie fin da quando aveva solo 4 anni. Più tardi, alta per la sua età e dolorosamente timida, cresciuta in un'era di segregazione e conformità, quella stessa voglia di raccontare diventa per Octavia una via di fuga. La sua era una timidezza quasi paralizzante che ha reso difficile per la Butler socializzare con altri bambini. Il suo imbarazzo, associato ad una lieve dislessia che rendeva ogni attività scolastica un tormento, rese Octavia un facile bersaglio per i bulli e la portò a credere che fosse brutta, stupida, goffa e socialmente senza speranza. Ma lei leggeva affamata, nonostante la sua dislessia e sua madre, che non aveva potuto frequentare a lungo una scuola, la portò a prendere la tessera della biblioteca e le portava anche tutti i libri gettati via dalle case che puliva per lavoro. All'età di 10 anni Butler pregò sua madre di comprarle una macchina da scrivere, Remington, sulla quale comporrà le sue primissime storie. Guardando diversi prodotti televisivi e leggendo diverse storie fantascientifiche, era convinta che avrebbe potuto fare di molto meglio, anche se la sua famiglia in primis le ripeteva che i neri non possono fare gli scrittori, figuriamoci le ragazze nere. La produzione fantascientifica è popolata da eroi maschili e bianchi che sparano agli alieni o diventano i salvatori del popolo, anche della gente nera. La Butler voleva creare personaggi diversi per destinatari diversi. Proprio parlando di fantascienza, per la Butler fu un amore devoto e decisamente profondo. Mi affascinava più persino del fantasy, perché richiedeva più pensiero, più ricerca su cose che mi affascinavano, ha spiegato. Anche da ragazza, quelle fonti di fascino andavano dalla botanica e dalla paleontologia all'astronomia. Non era una studentessa particolarmente brava, ma ha detto che era molto avida. La Butler ha frequentato il Pasadena City College e il Clarion Workshop. Durante gli anni 70 ha affinato la sua arte come scrittrice, trovando, durante una lezione con il programma di scrittura che seguiva, un mentore veterano di fantascienza come Harlan Ellison. Ha vinto un concorso di racconti a livello universitario, guadagnando la sua prima entrata, ovvero addirittura 15 dollari, come scrittrice. In quel periodo ha anche iniziato a germogliare l'idea di quello che sarebbe diventato il suo romanzo Kindred, tradotto in italiano con Legami di Sangue, uscito nel 1979. Un compagno di classe afroamericano, coinvolto nel Black Power Movement, teneva comizi dove criticava a fondo le precedenti generazioni di afroamericani per essere stati sottomessi ai bianchi. Come Butler spiegò nelle successive interviste, le osservazioni del giovane furono un catalizzatore che la portò a rispondere, con una storia che forniva un contesto storico per la sottomissione, dimostrando che poteva essere intesa come una sopravvivenza silenziosa ma coraggiosa. Legami di Sangue parla di una donna ripetutamente portata nel passato, nella piantagione dei suoi antenati nel Maryland. Presto comprende che la sua missione è salvare la vita dell'uomo bianco che violenterà la sua bisnonna. Se lei non lo salvasse, la sua vita non potrebbe esistere nel futuro dal quale proviene. Questo terribile dilemma obbliga Dana ad affrontare il trauma ancora vivo della schiavitù e della violenza sessuale sulle donne nere. Dopo essersi laureata, Octavia Butler ha continuato a svolgere lavori temporanei sottopagati, dove veniva sfruttata mentre si alzava alle due o alle tre del mattino per scrivere. Dopo cinque anni di richieste di rifiuti, riuscì finalmente a vendere il suo primo romanzo, Pattern Master, che poi in realtà alla fine sarebbe anche diventato l'ultima puntata della cronologia interna nella serie nel 1975, dando così inizio al suo lavoro sul ciclo dei patternisti. Ci sono cinque libri in questa serie che possono essere letti in ordine di pubblicazione o in ordine cronologico. Seme selvaggio, la nuova stirpe, sopravvissuta, incidente nel deserto e Pattern Master. Questa è stata la prima serie di Butler e parla di una storia segreta che si svolge dal XVII secolo nel lontano futuro e che presenta una razza di telepati allevati selettivamente che arrivano a dominare la terra. Ambientato in questo lontano futuro racconta della maturità di Terai, un giovane paternista che lotta per una posizione nella società omonima e infine per il ruolo di Pattern Master. La Butler però non amava il romanzo Survivor, cioè sopravvissuta, e in seguito lo ha criticato aspramente cercando anche di non farlo ripubblicare. Quando fu pubblicata la serie, i critici elogiarono la sua trama ben costruita e l'eroina rinfrescantemente progressista. Immagina un futuro lontano in cui l'umanità si è evoluta in tre distinti gruppi genetici, quello dominante telepatico e introduce i temi di gerarchia e comunità che ritorneranno e saranno temi identificanti del suo lavoro. Alla fine è stata in grado di lasciare alle spalle i suoi lavori saltuari per scrivere a tempo pieno e negli anni 80 e 90 i suoi lettori e la sua reputazione sono cresciuti. Gli anni 80 invece sono stati per Octavia gli anni che le hanno portato una serie di premi, tra cui due Hugo Awards, il premio più importante della fantascienza, istituito per la prima volta nel 1953. L'ascesa alla ribalta di Octavia Butler è iniziata infatti nel 1984, quando il racconto Speech Sounds, il suono delle parole, ha vinto il Hugo Awards per Best Short Story e un anno dopo Bloodchild ha vinto l'Hugo Awards, il Locus Awards e il Science Fiction Chronicle Reader Award per il miglior romanzo. Ambientato su un pianeta alieno, descrive la complessa relazione tra rifugiati umani e gli alieni simili a insetti che li tengono in una riserva per proteggerli, ma anche per usarli come ospiti per l'allevamento dei loro piccoli. A volte viene soprannominata la storia di un uomo incinto, di Butler, per uno degli aspetti più particolari di questa storia. Nel frattempo, Butler ha viaggiato nella foresta pluviale amazzonica e nelle Ande per fare ricerca su quella che sarebbe poi diventata la trilogia della xenogenesi. Joan, del 1987, Adulthood Rights, del 1988 e Imago, dell'89. Queste storie sono state ripubblicate nel 2000 come raccolta Lilith Sprud, cioè letteralmente la prole di Lilith. Il ciclo della xenogenesi infatti racconta che dopo un olocausto nucleare che ha portato alla quasi totale estinzione dell'umanità, gli ultimi sopravvissuti sono stati salvati dagli alieni o ancali, che li hanno portati sulla propria astronave e mantenuti in reanimazione sospesa per diversi decenni. Al suo risveglio, a bordo di un'astronava aliena 250 anni dopo il suicidio collettivo del genere umano, Lilith ricorda di essere stata interrogata. Le vengono poste di nuovo le stesse domande e alla fine viene a sapere che la terra è stata resa inabitabile dalla guerra nucleare e che gli umani sono quasi tutti estinti. Lilith scopre che gli enigmatici oancali l'hanno curata da un cancro insanabile per offrirle una sfida incredibile, l'inizio della xenogenesi, ovvero la fusione fra i superstiti dell'umanità e una razza aliena che da millenni vaga nel cosmo alla ricerca di nuovi ceppi genetici. Il ritorno sulla terra parzialmente rigenerata è possibile, ma solo per coloro che accetteranno una nuova strada evolutiva. La storia di Lilith è l'analisi introspettiva di un'umanità smarrita e piena di lati oscuri, spietata e dolorosa, ma che non perde la speranza. La serie esamina il tema dell'alienazione, creando situazioni in cui gli esseri umani sono costretti a convivere con altre specie per sopravvivere, ed estende nuovamente l'esplorazione ricorrente di Butler, di individui e comunità ibridi geneticamente modificati e sulle tendenze predatorie e orgogliose che influenzano l'evoluzione umana. Durante gli anni 90, la Butler ha lavorato ai romanzi che hanno consolidato la sua fama di scrittrice, il ciclo delle parabole. The Parable of the Sower, cioè la parabola del seminatore, ambientato in un futuro distopico in cui la società civile è vicina al collasso, a causa della scarsità di risorse e della povertà dilagante, è la storia di Loreno Lamina, che è nata con iper-empatia, cioè possiede il dono di percepire fisicamente il dolore altrui. Gli Stati Uniti si sono trasformati in città-stato in guerra e città-aziendali. C'è un senatore molto influente che usa lo slogan, e non scherzo, Make America Great Again. È noto che i suoi sostenitori bruciano le persone sul rogo per non essere cristiani o per non essere il giusto tipo di cristiano. Quando la sua comunità viene attaccata, Olamina si reca nel nord della California per costruire una comunità chiamata Earth Seed. La storia della comunità continua con la parabola dei talenti, vincitrice del Nebula Award. Mentre la sua visione è estrema, ci sono molte cose che percepiamo pienamente nei limiti della plausibilità, se non addirittura preamboli del nostro tempo. Le risorse sono sempre più scarse, il pianeta sta bollendo, il fondamentalismo religioso è diffuso e le classi medie vivono in enclavi murate. La protagonista del romanzo, una donna nera come la stessa autrice, teme che l'autoritarismo del leader non farà che peggiorare le cose. È la stagione delle campagne negli Stati Uniti e un carismatico politico corre con lo slogan, rendiamo di nuovo grande l'America. Secondo il suo avversario è un demagogo, un rubble rouser, un ipocrita. Quando i suoi sostenitori formano gruppi e bruciano le persone a morte, condanna la loro violenza in un linguaggio così mite che la sua gente è libera di ascoltare ciò che vogliono sentire e poi girarsi dall'altra parte e ricominciare. Accusa, senza motivo, interi gruppi di persone di essere stupratori e spacciatori. Ci si chiede veramente quanto crede in questa parte retorica e quanto invece lo faccia perché riconosce il valore e il potere della divisione per conquistare e governare, un famoso dividi e timpera. Allo stesso tempo discutibile e sempre più controverso, mentre si sforza di riportare il paese in una sorta di era passata più semplice, più facile, che però non è mai esistita. Ci suona tremendamente familiare, ma il personaggio in questione è il senatore del Texas, Andrew Steele Jarrett, il candidato presidenziale immaginario che rincorre la vittoria elettorale, in un romanzo distopico di fantascienza pubblicato nel 1988, due decenni prima dell'elezione del 45esimo presidente degli Stati Uniti. La Butler aveva in mente altri quattro romanzi delle parabole, Parable of the Trickster, Parable of the Teacher, Parable of Chaos e Parable of Clay. Octavia Butler ha spiegato che la ricerca e la scrittura dei romanzi di Parable l'avevano sopraffatta e depressa, quindi era passata alla composizione di qualcosa di più leggero e divertente. Questo è diventato il suo ultimo libro, il romanzo di fantascienza sui vampiri Fretling, del 2005, che viene dopo due short stories che si concentrano su come condizioni impossibili costringano una donna normale a fare scelte angoscianti e impensabili. Nel 1995 è diventata la prima scrittrice e unica di fantascienza a vincere una MacArthur Fellowship. Nel 2000 ha ricevuto un Lifetime Achievement Award per iscritto dal Pan American Center. Butler mantenne una relazione di lunga data con la biblioteca di Huntington, nella quale era cresciuta, e lasciò in eredità i suoi documenti, inclusi manoscritti, corrispondenza, documenti scolastici, quaderni e fotografie alla biblioteca del suo testamento. La sua collezione è composta da 9062 pezzi in 386 scatole, un volume, due raccoglitori e 18 fiancate. È stata messa a disposizione di studiosi e ricercatori dal 2010. Il suo lavoro spesso prende delle problematiche del mondo reale e della working class, come la discriminazione sulla base di razza, genere, classe o capacità, e invita il lettore a guardarle in un contesto nuovo. La presunta fantascienza di Octavia Butler risuona anni dopo la sua morte. L'autrice visionaria di fantascienza che ha immaginato un futuro alternativo che prevedeva molti aspetti della vita di oggi, dal grande cartello farmaceutico al trampismo, passando pure per una pandemia globale, con le sue storie di donne fondatrici di società nuove, viaggiatrici nel tempo che superano lotte storiche e legami tra specie diverse. Octavia Butler ha avuto una profonda influenza nella crescente fama dell'afrofuturismo, un movimento culturale in cui scrittori e artisti neri, ispirati dal presente, passato e futuro, raccontano attraverso il proprio lavoro storie che racchiudono magia, storia, tecnologia e molto ancora. Ha sfidato la tradizionale identità di genere, raccontando la storia di un uomo incinto in Bloodchild e immaginando personaggi mutevoli sia nella forma che nel sesso in Wild Seed. Il suo interesse per l'ibridazione e l'adattamento della razza umana, che ha esplorato nella sua trilogia della xenogenesi, anticipava le opere di saggistica di autori del calibro di Harari. Le preoccupazioni su argomenti come il cambiamento climatico e l'industria farmaceutica risuonano ancora più fortemente ora rispetto quando li ha intrecciati nel suo lavoro, rendendoli temi letterari al centro delle sue storie. E naturalmente, in virtù del suo genere e della sua etnia, ha cercato di infrangere ogni presupposto di genere sulle scrittrici e sui lettori, così ancora fortemente radicata che nel 1987 la sua casa editrice continua a mettere donne bianche sulla copertina del romanzo Dawn, il cui principale personaggio è nero. Ha anche contribuito a rimodellare il fantasy e la sua fantascienza incorporandoli con il naturalismo e a personaggi simili a lei. Octavia Butler ha costruito mondi sballorditivi in tutto il suo lavoro e ha esplorato dilemmi che ci tengono svegli la notte. Attraverso la finzione, i romanzi di Butler sono proprio quel tipo di fiction critica che osserve e suggerisce che dovremmo prestare attenzione. La bambina che ha iniziato a scrivere come mezzo di fuga ha finito per elaborare potenti appelli all'azione sociopolitica, che sembrano sempre più pertinenti alla nostra sopravvivenza come specie. La Butler è morta nel 2006 a seguito di una caduta vicino a casa sua nello stato di Washington. Sebbene avesse iniziato a soffrire di un blocco della scrittura e di una depressione causata in parte anche dai farmaci per la sua pressione sanguigna molto alta, aveva continuato a insegnare e nel 2005 era stata introdotta nella Hall of Fame degli scrittori neri della Chicago State University. A quel punto i suoi libri erano stati tradotti in dieci lingue, vendendo complessivamente oltre un milione di copie. Il lavoro della Butler è oggi oggetto di venerazione, fan fiction, adattamenti televisivi, ce ne sono attualmente due in corso, e vivace attenzione anche in campo universitario, dove viene letto da prospettive diverse come la critical race theory, l'afrofuturismo, il femminismo nero, la teoria queer e gli studi sulla disabilità. Attraverso la narrativa, Octavia Butler ha imparato a immaginare un futuro alternativo alla vita apparentemente grigia che era stata immaginata per lei, quella di moglie, madre e segretaria. Ho fantasticato di vivere vite impossibili ma interessanti, vite magiche in cui potevo volare come superman, comunicare con gli animali, controllare le menti delle persone, scrisse nel 1999. La capacità più profonda di Octavia Butler è stata quella di concepire il nostro futuro fino a una profonda comprensione della natura umana e la critica ha sempre detto che la lezione più importante da trarre dal suo lavoro è la speranza. La costruzione del mondo è enorme nel suo canone e quindi c'è sempre la speranza che in quanto abbiamo costruito questo mondo possiamo costruirne anche un altro. Non è un caso poi se una generazione di scrittori e di scrittrici più giovani la citano come un'influenza impareggiabile. Da N.K. Jamesin a Toceo Niebuci, a Marlon James, a Nedio Corafor, una nuova generazione di visionari spesso appartenenti alla minoranza affrodiscendente proprio come lei che chiaramente hanno visto nel suo lavoro una scintilla inesauribile di ispirazione, creatività e genialità letteraria. Octavia Butler non poteva non essere parte di questo progetto che si chiama Antologica. È stata una delle prime autrici che io ho seguito e letto in un mondo popolato da uomini come quello della fantascienza e non solo da uomini, da persone bianche, da persone bianche che difficilmente vedevano anche altri aspetti della società e quello che ha fatto Octavia Butler è stato soprattutto aprire delle porte, aprire lo sguardo e rendere sempre più visibili alcune cose che non prendiamo nemmeno in considerazione. Il mio invito come sempre è solo uno, leggete Octavia Butler. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa puntata, spero che vi sia piaciuta molto e spero di avervi ispirato a leggere qualche opera di Octavia Butler.